guardate sempre in macchina guarda quanto si è allungato i preparativi della caratteristica andiamo a vederla da vicino vediamo se ci sono delle imperfezioni da vicino se il nostro piccolo camerino questo è il nostro piccolo camerino preparazione non c'è nessuno faccio una cosa non mi hanno busciato west ci possiamo spostare allora devo andare non era west ma non c'è nessuno